Nei prossimi giorni sarà depositato il ricorso al TAR preparato da azione politica relativo alla delibera di giunta regionale sulla incompatibilità del presidente D'Alfonso, contemporaneamente anche senatore. Un'azione forte, quella che secondo il Movimento Civico è mancata nelle mosse dei consiglieri di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Da qui parte la critica ai vertici dei partiti di centrodestra, ai quali azione politica chiede la immediata convocazione di un tavolo politico per azzerare ogni discorso sulle candidature e ogni litigio e discutere di programmi e contenuti per unire tutte le anime del centrodestra. Iniziamo una campagna elettorale sui regionali che è prossima, ripartendo anche lì dalla grande incompatibilità di D'Alfonso, facendo un'azione giudiziaria a noi da oggi perché vediamo che comunque la parte dell'opposizione regionale sia del centrodestra ma soprattutto anche dei 5 stelle che strillano strillano poi però quando si tratta di fare i fatti continuano a essere latitanti quindi inizieremo noi con un gesto insomma direttamente fatto da noi anche sull'incompatibilità di D'Alfonso. E a proposito di candidature unità del centrodestra brucia ancora la sconfitta elettorale subita da Morra a Teramo. Azione politica non ci sta ad essere il capro espiatorio della sconfitta elettorale. Il Movimento Civico guidato da Gianluca Zelli aveva appoggiato la candidatura di Mauro Di Dalmazio e nel ballottaggio non ha raggiunto l'accordo con la restante parte del centrodestra lasciando mano libera agli elettori. La mossa da molti in primis dagli esponenti del centrodestra Teramano è stata letta come la volontà di giocare al tanto peggio tanto meglio ed oggi Zelli spiega le ragioni del mancato accordo di apparentamento. Ragioni che arrivano da lontano dall'inizio della campagna elettorale quando a non piacere era stato il metodo di scelta del candidato. Una imposizione inaccettabile ha detto Zelli che contesta anche il mancato rinnovamento nelle liste. Teramo brucia a tutti è una città che è stata amministrata bene nella prima parte degli ultimi 14 anni di governo di centrodestra serviva un cambiamento noi abbiamo provato a darlo con un messaggio forte che è stato quello chiaramente di mettere candidati che non erano mai che non hanno mai fatto parte delle giunte precedenti non siamo stati ascoltati e quindi oggi comunque la discussione continua da quel punto di vista dobbiamo bloccarla. Teramo è finita adesso parte la regione dobbiamo tornare insieme a discutere di programmi e a discutere di quello che è l'Abruzzo che noi vogliamo.